In attesa della pausa pasquale si tenta di uscire dallo stallo post-elettorale. 5 Stelle provano a portare avanti le loro consultazioni in attesa di quelle ufficiali di Mattarella al Quirinale, che iniziano il 4 aprile. Ma il dialogo sul governo appare sempre difficile. Il capigruppo del Movimento 5 Stelle hanno incontrato i rappresentanti di Forza Italia e Lega. Un incontro costruttivo perché innanzitutto le altre forze politiche hanno molto apprezzato la nostra iniziativa di mettersi intorno al tavolo a discutere non di poltrone, di eventuali maggioranze che si fondano su delle poltrone, ma di temi. A disertare l'appuntamento invece il Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Allo scontro sulle alleanze si aggiunge quello sui temi. Dopo una prima apertura la Lega ora chiude all'arreddito di cittadinanza cavallo di battaglia dei 5 Stelle, considerato una vergogna. Clima sempre più teso, dunque alimentato anche dalle elezioni degli uffici di presidenza. Dopo il Senato, oggi alla Camera, sono stati eletti quattro vicepresidenti. Mara Carfagna di Forza Italia, la pentastellata Maria Edera Spadoni, Ettore Rosato del PD e Lorenzo Fontana della Lega. Tre questori e otto segretari sono stati eletti proteste da parte del PD. Purtroppo la composizione dell'ufficio di presidenza non rispetta il voto degli italiani. Il PD è la seconda forza politica del Paese e abbiamo un solo rappresentante. Ne siamo molto orgogliosi di averlo, ma ci pare che 5 Stelle e Centrodestra abbiano cominciato col piede sbagliato.